Burloni SJ mi ha sfidato nuovamente su Minecraft e mi ha detto prova a fare uno scherzo ad un tuo amico con il nostro zaino Come ben vedete qua ci sono le foto degli zaini SJ che sono veramente stupendi Se ve lo siete persi ragazzi abbiamo fatto una gara di costruzione contro Marco nel quale ho provato a costruirlo su Minecraft Ed è venuto veramente qualcosa di spaziale Questa volta però non andrò a costruirlo bensì il ragazzo server ha trasformato lo zaino di SJ in un modo per fare uno scherzo a loco Perché lo zaino diventerà un hack atomica per provare a battere il drago Cosa vuol dire? Io dovrò craftare i sei frammenti dello zaino Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto frammento E con questi frammenti andrò a creare lo zaino finale Con questo zaino ragazzi io avrò uno zaino pieno di tutti gli oggetti più incredibili di Minecraft Per trollare loco Lui ovviamente non si aspetta niente perché gli ho detto che avremo l'oggetto di SJ Che sarà questo piccolo item qua SJ Gang Con il quale invece lui ogni tre minuti riceverà l'end loot Quindi lo sto trollando veramente in tutti i modi Passate nel link in descrizione per guardare il zain di SJ E oggi lo ricreeremo su Minecraft Siamo prontissimi per iniziare Prendiamo il kit base con tutte le SJ Gang Che ci daranno l'end loot chiaramente ogni tot minuti Io ovviamente ho anche della carne Loco sei pronto per iniziare? Sono prontissimi quanto vuoi 3, 2, 1 Si inizia loco Sbam Io parto subito con il legno E poi mi fugo subito in caverna Per prendere un sacco di minerali Che mi serviranno raga per andare a battere il drago Effettivamente io mi sa che me la giocherò molto con Oh ci sono degli enderman Vediamo se mi danno subito le enderpearl Allora un po' Ok Vediamo un po' Infatti non sono andato Oh enderpearl Però non ho i suoni di Minecraft Intanto ragazzi Ok Io ho bisogno di un bel po' di cose Molto 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 interessanti Cosa vuol dire che ti sta picchiando l'erongolem? Allora io lo sto picchiando Ah tu lo stai picchiando Esatto esatto Beh chiaramente è giusto che sia così Allora intanto prendiamo un po' di ferro Il ferro è bellissimo È stupendo il ferro Io quanto ne prendo Ne prendo cinque pezzi Madonna ma ne ho tantissimi zio Tantissimi Non sono qua Tantissimi Non c'hai idea di quanti ne ho zio Ma proprio tanti 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 Bene 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 Io uso subito l'item Vai Uh cosa ti è uscito? Buonissimo Una corazza in ferro con protection Tutta una palla in diamante con fortuna 3 Buona Eh buona 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 A me non è uscito niente di che in realtà A me non è uscito neanche una roba in diamante zio Zero? Zio Zero roba in diamante se vuoi Zero roba in diamante Ma che dici? Armature in cavallo Non sto parlando scusami D'armature in cavallo Un'armatura di cavallo in diamante Ok sì Mi sembra tutto abbastanza corretto loco Va bene Hai visto della grave in giro per caso? Della grave in giro no Ma ho trovato una bella puzza di lava Dove? 255-135 Grazie Ragazzi che mi hai detto Non sto scherzando è vero? Sono trovato talmente Non lo so Così oggi mi sento gentile Mi sento abbastanza gentile oggi Grazie Voglio cercare però di riuscire a trovare almeno E dico almeno 15 di ferro 15 di ferro? Perché mi voglio fare almeno una Ah no non è vero C'è un land loot Esatto Sì C'è un land loot Ci avevo pensato Non ci avevo pensato Non ci avevo pensato Facciamo questo Ma qua c'è la grave per caso? Io la grave l'ho trovata Sono a coordinate 250-1 Uh flint Ho già preso il primo colpo Flint per marci Flint per marci Zio Flint per marci Quindi che va il portale a farci Io non fai del portale Noi non faccio niente Io vado un altro Ah faccio allora Io me ne vado un altro Oggi faccio tecnica diversa Me ne vado in caverna a farlo Guarda Va bene Guarda Io non gioco la mia posti lava Lo faccio qua sinceramente Ok Allora questo fatto Perfetto Allora dimmi come sei messo tu Raccontami un pochetto Io sto facendo il portale Stai già a far il portale Mmm Yes Yes A me queste cose Non mi piacciono Sbruppo Perché non ti piace il mio portale Così bello Non lo so Non mi piace che tu stia facendo già il portale Io me la voglio giocare un po' più chill Tranquillo No Aspetta Tu devi correre per il tutto Ok Adesso mi fa Ragazzi fai una cosa Mi togli gli achievement Cos'è meno Non vede quando faccio le cose Proprio bella Sarebbe proprio divertente come cosa Perché no Ma io voglio vedere quello che fai Sono curioso Oh sì Oh sì Perfetto Ora non saprei mai che cosa ho fatto Però io devo uscire e rientrare Posso farlo? Penso di sì Rocco Ora non saprei mai cosa faccio Ma sinceramente non mi interessa sai Non ho bisogno di sapere tu cosa fai Io sì Io penso che tu ce n'avrai molto bisogno di sapere cosa faccio io Ma molto bisogno Perché ma Ma proprio tantissimo bisogno Ma proprio quel tanto 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 che Mamma mia guarda Mamma mia guarda Ti dico che sono un pirla Tutta la lava è diventata ossidiana quasi Non è vero Ma ce la fai Quasi Sì ne sono rimasti due invita Anche perché lo voglio utilizzare io il tuo portale Non puoi Ti lo impedisco Tanto basta che mi ammazzo e vado verso quelle coordinate lì Stai utilizzando il mio immagino No il tuo innanzitutto Questo è mio No ho detto che stai utilizzando la mia zona Che ti ho dato io prima Per dirti dove era Ah questa sì Questa sì Ok Stai facendo sto portale L'ho già fatto Ci ho preso mezz'ora ma l'ho fatto Sei nel nether E io sto entrando O forse sono già alla fortezza Visuale loco Voglio vedere cosa sta vedendo loco Uno schifo Non vedo niente Lo schifo Lo schifo Lo schifo Lo schifo Cosa vuol dire che è il bioma peggiore scusa Il basalto è peggiore Ma in che senso scusa Guarda che puoi trovare lo stesso delle robe No è meglio tutti gli altri Tornare che è il basalto Il basalto spune niente Allora in realtà il basalto Se hai fortuna ti spune la fortezza Mi pare che può spunare solo la fortezza vero Che non può spunare il bastione In quella Mi sa che è così Mi sa che è proprio così Ok così Siamo spunti Dimmi Ci siamo dimenticati Che abbiamo le end loot Marci Non è vero Sì non è vero Vabbè le end loot hai le ender pearl È vero anche quello Hai le ender pearl con le end loot Eccola Eccola Ender pearl Ender pearl Come l'ho detto È che io ho dimentico Io mi dimentico sempre che abbiamo quello Mi dimentico proprio sempre il fatto che abbiamo Quello da utilizzare Vabbè poco male sinceramente Io non vedo fortezze e niente Tu sei vicino a fortezze? No Sono in mezzo alla soul sand Ok Questa cosa già è positiva Questa cosa Quindi sei entrato anche te nel nedre Certo zio Cosa pensi zio Zio cosa pensi? E' scarso E' Sono scarso Poi Un pochettino Ammettilo dai No no Non ammetto assolutamente nulla Va bene va bene Ok ragazzi Molto bene Molto interessante No 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 Aiatie No 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 Eee Spero te l'ho trovato L'ho trovato Dovevi proprio sapere sti sicuro Avrei trovato una fortienza Perciò va No Ho trovato un bastione No Bru Come bastione Ma che mi sceddi Ma che mi sceddi Troppo 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 Eccomi qua Allora io devo dirti una cosa Devo avvisarti di una cosa Io ho trovato ora la pozza di lava Ma come la pozza di lava No non ero nel nether Stavo cercando Ti ho trollato Ti ho trollato molto e brutalmente Ho visto Ma ti pare che devo trovare I ragni velenosi Come ragni velenosi? Se vai in caverna Ci credo che li trovi Io sto cercando degli scheletri In questo momento Da ammazzare Così magari con gli archi Che troviamo Ehi Lo scheletro con l'arco Sì Io ho trovato Quattro diamanti Ho trovato nel cesto Quattro diamanti Anche a me sarebbero Di diamanti in questo momento E basta che hai Fortunato con il loot E non ho molta Fortunità Non ho ancora troppo Niente interessante bro Sto vedendo Otto Wither Skyton Di fronte a me In questo momento Questa cosa Ammetto che non è molto buona Dobbiamo dirla questa cosa Non ci credo No 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 Marce non ci crederai Cosa? Cosa succede? Che un bastione attaccato alla fortezza È proprio È un blocco di istanza Non è vero zio Non è vero Ti sto giurando su me stesso Zio non è vero Ma tu giuro Allora la situazione È un po' È critica Oh zio Zio Anche a te l'ha dato Mi sembra che sia potenziato L'end loot zio Ma di brutto In diamanti con rotation 4 No no peggio Come peggio C'è un arco con power 12 A cos'è? Un arco con power 12 Ho due blaze road Ma come? Ma che fortuna Zio ma che dici? Io non c'ho niente Sono sfortunato mi sa Sto scherzando Non mi ha dato niente di tutto ciò Ti prende in giro Però ti posso dire Che il ragazzo mi ha detto Che può droppare anche blaze road E cos'è? Bisogna essere fortunati Ma può dare anche quelle cose lì Giusto Giusto per avvisarti Che questo end loot È molto interessante Non tanto Molto interessante Moltissimo È moltissimo interessante Allora io faccio così Adesso per morire dai blaze Quindi Non mi interessa Morire dai blaze E sono troppi No zio Non mi morire dai blaze Per favore Dai Fai il bravino Io vorrei C'è pure mia nonna Questa cosa Aspetta eh Devo fare una cosa Che porca di quella miseria Giaccia Giaccia Mi stanno puntando aiuto Ti stanno a puntare A puntare ti stanno Ok Sono tutto il ferro Beh molto Io direi molto molto bene Ma la situazione Che si sta creando Con sbrubbers Non è positiva per lui Per me è positiva Perché Eccolo E adesso non sto scherzando Però eh E adesso No ora sono E ora non sto scherzando bro E ora non sto scherzando Bro Non sto scherzando Due blaze road Due blaze road Io ancora una ne ho E basta Una Due blaze Io sono messo meglio di te Mi stai dicendo Adesso ne ho due anche io Ok però io c'ho sei enderpearl Come fai Deve sei enderpearl De l'endloot Te non te l'ha andato scusa Mi stai trollando secondo me Non ti sto trollando Bro Dai Eh basta Non ti sto trollando Ti giuro che non ti sto trollando Loco Le voglio anche le cose però Io voglio Vorrei trollarti Ma non trollers No L'erba voglio Non crescere anche nel giardino del real Comince mia nonna Ok va bene Ascolta mia nonna Fidati mia nonna Ok Va bene Dove sei te in questo momento? Sto per morire No non sto morendo Zombie Ha ucciso Marci Mi ha ammazzato uno zombie Ragazzi server Mi ha ammazzato uno zombie Perché? Era nell'app del nether Perché? No dai Ah voleva farsi una vacanza Non posso più caldo Tutti vanno al mare No zio no Questa cosa non è accettabile Non è Non è accettabile questa cosa Dai Io sono contento così Sono contento così Zio no Io non ho contento di questa cosa Io non ho contento per nulla di questa cosa Zio Ma io contento non ho nulla di questa cosa E morite Basta Non ci voleva questa cosa Non ci voleva questa cosa Non ci voleva questa cosa Mamma mia Io avevo 5 di blazer adesso Solo Io blazer ancora no Devo aspettare ancora 45 secondi Uh elmo con protection 4 Elmo con protection 4 Diamante Ok non male questa cosa in realtà Questa cosa non male Però Questo è un problema Perché lui Adesso è messo meglio di me Ok Ma se spulassi un blazer Sarai anche più contento sinceramente Io sono adesso al bastione Lo set Ma non sono al tuo bastione Però mi sa Non mi sa di no Io sono a 300-300 Tu? 300-300 Ma come sei 300-300? 300-300 Siamo vicini ma lontani E te Dove sei? Fidati che siamo molto vicini Ma siamo anche molto lontani In questo momento Cosa vuol dire? Che siamo alle stesse coordinate x Ma non z Ah ok Ok Siamo lontani Siamo abbastanza lontani Oh vale filosofo Siamo lontani ma vicini alla fine loco È tutta una questione di prospettive Giusto? È una questione di legame Se ci sentiamo vicini Siamo sempre vicini Ok Ok Eh zio è così Ma dal tuo bastione Se la vi Posso domarci Ok Ottimo Enderpress A posto Questa posto Di Enderpress A postissimo Di Enderpress 19 16 19 Ragazzi serve Perché non posso più utilizzare il coso Ragazzi server Perché Mi fa Utilizzare Ah ecco La si è sbloccato Place di nuovo Godo 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 Ho aperto lo zen Della 7 Raga Sound Ok Allora Io ti dico Che Io faccio così Faccio Cosa ti ha dato di diamante a te Ho il Corazza E elmo Tutti per le cion 4 Io ho l'arco con power 3 Buono buono Io ho L'arco con power 3 Non è malissimo come cosa Non è malissimo Mi sta è carino Non è male Io comunque ti ho trollato Io ti sto trollando un sacco Tu non hai idea di quanto io ti stia trollando Cosa vuol dire che mi stia trollando Tu non hai idea di quanto io ti stia trollando Cioè tu non hai Tu cosa stai facendo in questo momento Ma tu non hai idea Del trolling totale Proprio veramente Guarda Mi sto trollando adesso Mi sto trollando in passato No ti sto trollando con quello che ti dico Ti sto trollando con quello che ti dico E sto facendo Che cosa stai facendo Allora io attualmente Sto messo bene però Bene quanto Bene Sono full diamond Come full diamond Sono full diamond E non è male come cosa Non è male come cosa Io voglio E ora mi manca una blaze road Vado verso la fortezza Ok Fortress 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 Where's the fortress Il risotto cosa non è poi niente bella Marci Non trovo la fortress Non è bello Forse ce ne ho già le blaze road Sto già andando verso il portale Ma io non sto capendo Ma perché mi trolli Non sto capendo niente È perché l'altro c'è un fan Giulio si chiama Mi ha detto Perché non trolli loco Nel mentre Togli tutti gli achievement Perché ti ho fatto Gli achievement Prima avevo dimenticato E niente E io ti dico Brodero Che sto per aprire Il portale Dell'end Non è vera Una bugia Dici che è una bugia O dici che è la verità Una bugia Quanto ci scommettiamo Che è la verità Una bugia Quanto ci scommetti Dimmi quanto ci scommetti Quanto te la rischi Che è vero È impossibile Non ha senso Sarebbe troppo Allora Io ho esattamente Sei blaze road Sto andando E me la rischio Un botto Ok Ok lanciata la prima Va bene Va bene Io c'ho 11 cn Mi vuoi dare le altre Per favore Che poi posso andarmene 11 Faccio così Ma sai che Questo sì Questo non glielo dico Però Questo non glielo dico Adete Bello ti prego Sono curioso Allora Ti dico la verità Vuoi che ti dico la verità Ti dico la verità Allora Io so già Nella situazione Di andare a cercare Il portale Diciamo Ok L'unica cosa È che Come No Come è fisicamente Possibile Piccolo come sei Non mi hai trovato Io ti ho trollato Dall'inizio del game Tu non hai idea Dall'inizio Non è possibile A un certo punto ho detto Adesso lo trollo Faccio finta di essere in caverna Ho fatto un sacco di trolling Esagerati Che non hai idea Guarda Troppi 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 Quando ho tirato le coordinate Quando ho tirato le coordinate Non ti sei fatto due domande No perché Scusa Cosa Quando ti ho detto No Non ti sei fatto due domande No Va bene Non sto capendo Aiuto Va bene Va bene Tranquillo Era vicino il portale Almeno È lontanissimo Come hai fatto A arrivarci Era lontanissimo È lontanissimo Zio È proprio lontano Lontano Mi stai trovando tantissimo Io ti sto trollando Non so Così fatto Ma secondo me Hai barato Barato no Barato no Secondo me Hai barato Non ho barato Davvero Non ho barato Sì sì Può chiedere Che se l'ho barato Ragazzo No Semplicemente Ho barato Nel dirti Che non ero lì Non lo so Sono serio Sono serissimo Sono serissimo Davvero Sono serissimo Su questa cosa Guarda Più serio Che non si può Più serio Che non si può Ma il drago Come ha messo Lo sto uccidendo Sì però Sto facendo un po' fatica Hai power 3 Vabbè Sto arrivando Anche io tranquillo Da quanto sei Eh non te lo dico Ok Così impari Ma come non me lo dici Oh zio Non dico niente Non dico più niente Comunque io c'è un problema Al coso Al mouse Che mi Mi butta da sola La freccia che non hai idea È vertiginosamente brutta Ma c'è che si è scarso quello Oh ma quanto è in alto sto coso Bru Oh Ma quante ha Non ci arriva la freccia No vabbè non ci arriva la freccia Quanto devo andare lontano È lontani È tipo Sei almeno sei minuti dietro di me almeno Tanto che sei minuti qua Raga c'è un problema di base qua No è che stava per succedere qualcosa Che non doveva succedere Non E se succede quella cosa che non deve succedere? Mi stava per ammazzare il drago Semplicemente loco Ok l'occhio girato un bel po' Mi sa ho sbaglio La doppia a sinistra adesso Ok Dai Posso raggiungerti in qualche modo Ci può Sono tipo a 6-7 hit io Ok qua sotto qualche parte Dove il tuo buco Ok Gravo a caso Ho capito Veloce Ma da Marci Va a vincere una sfida Epocale Epocale Mamma mia ragazzi Mamma mia Avevo trovato Stronghold Mamma mia Ragazzi ci vediamo in un prossimo video Vittoria schiacciante Da parte di Marci Eeeh 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 Ma non c'è manco il portale attivo Lo sapevo che è barato infame Ah si Hai barato Non è vero Non c'è il portale attivo Ma non è vero che ho barato Scusami un attimo Hai barato Ho usato un altro Stronghold Allora Ragazzi ha usato un altro Stronghold Allora Non l'ho utilizzato Scusami Non lo so Eh dimmelo te Ah è qua eccolo qua Tipo di da me C'è quello che ho utilizzato io No aspetta Fermo fermo Cos'è questo? È lo zonio della Seven Non so se puoi aprirlo tutto Ma cos'è ooooh Ah 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 Non lo voglio anch'io Guarda cosa succede Se io utilizzavo questa qui Della SJ A te da Valente Lut A me tipava via Ma come tipava via Tipa di da me Ma che cosa? Potevo craftare lo zaino Che mi dava quella roba lì Eh non ci posso prendere Ragazzi ci vediamo al prossimo Di Avarci è tutto Ciao